Erano tutti giovanissimi, molti anche minorenni, sul web stavano dando vita ad un'organizzazione terroristica di matrice suprematista. Due fondatori, un minorenne di Torino e un savonese di 22 anni, Andrea Cavalleri, che oggi è stato arrestato. Nelle loro farneticazioni via chat c'era odio per tutti, gli ebrei diventano il male da eliminare, le donne addirittura vengono definite bambole di carne da sterminare. Si facevano chiamare a nuovo ordine sociale, il loro sogno diventare la divisione italiana della rete terroristica neonazista Atomwaffe, a bloccarle la polizia di prevenzione Ucigos insieme alle Digos di Genova e Savona. L'intervento nostro è proprio di polizia di prevenzione, quindi cercare di raccogliere elementi nei confronti di soggetti quando sono ancora all'inizio di questa loro strada che li porta a una radicalizzazione molto accesa. L'accusa è di associazione con finalità di terrorismo, ma anche istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Nei loro deliri online inneggiavano ad azioni eclatanti. Io una strage la faccio davvero, farneticava il 22enne di Savona, compreso il sacrificio della propria vita in nome della causa.